L'attacco al sindaco Bortolato da parte di tutti i consiglieri di minoranza di Mogliano Veneto per la foto che lo ritrae con un esponente di un gruppo legato a Casa Pound. Riteniamo che questa foto fatta dal sindaco sia una foto vergognosa, inappropriata e inopportuna, che testimonia ancora una volta come purtroppo l'ingresso in giunta di Fratelli d'Italia stia determinando uno spostamento a destra da parte dell'azione amministrativa della giunta Bortolato. Fotto pubblicata nel gruppo Noi di Destra, sempre duramente condannato dalle opposizioni. Non si può accettare il fatto che un sindaco con la fascia tricolore al collo all'interno del proprio ufficio e con un proprio assessore di fianco, anche se di Fratelli d'Italia, posi con un esponente arcinotto a Casa Pound. Non una prima volta per Bortolato si legge nella nota, visto che già nella scorsa giunta aveva mandato l'assessora Tocchett a presenziare ad un'inaugurazione di un'associazione sempre facente parte dell'orbita di Casa Pound. Abbiamo scritto e depositeremo nei prossimi giorni una mozione per portare il sindaco a riferire in consiglio comunale, a chiedere scusa alla cittadinanza per questa bruttissima pagina che gli sta facendo vivere e soprattutto per prendere degli impegni fattivi su come portare avanti da qui in avanti la memoria e per costruire quello che sarà l'impegno delle prossime generazioni nei confronti di quelli che sono i valori democratici, repubblicani e anche antifascisti.